Ah 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 uuuuhuuh Il Sulmona Fuzzall si aggiudica il big match di giornata battendo lo sport center celano per 4 a 2 al termine di una partita degna della serie C1 Due ottime squadre guidate da due grandi allenatori come Benjamin Fonte e Walter Di Domenico Garabella sin dei primi minuti con azioni da ambo le parti. All'ottavo buona combinazione tra Sanchez e Junior con palla mandata di poco a lato dal brasiliano. Subito dopo ci prova Giansante con un tiro respinto da Pompili. Il Sulmone insiste fino ad arrivare al gol sugli sviluppi di un corner dopo una conclusione di Junior. Battuta di Palladino per il tiro vincente di Giansante per l'1-0. Al quarto d'ora Sanchez ferma di Curzio con l'arbitro che estrae il rosso diretto per il giocatore sulmonese. Espulso Sanchez al termine di un'azione non fermata precedentemente per un intervento di Rossetti su Palladino. Prova la reazione allo Sport Center che si vede con le conclusioni di Rossetti e contestabile. Al ventottesimo espulsione anche nei celanesi. Dopo una rimessa laterale di Liberatore va a dar fastidio di Curzio che, non rispettando la distanza, si becca il secondo giallo. Sul finire di tempo i sulmonesi sfiorano il gol con il tiro di Junior respinto da Pompili e dopo la ribattuta Giansante manda fuori. La ripresa si apre con un tiro di Ginnetti ma gli ospiti pareggiano. Al terzo palla in mezzo di Panacci per il gol di Rossetti. I sulmonesi subiscono un po' la pressione dei marsicani che si rendono pericolosi con una punizione di lancia. Al settimo altra espulsione nei celanesi. Cartellino rosso per lancia dopo la seconda munizione. Il sulmona poi sale nuovamente in cattedra e ottiene il nuovo vantaggio con Veneziale che riesce a farsi spazio e a trovare la strada del gol per il 2-1. Giansante a tu per tu con Pompili spedisce di poco a lato. La squadra di Di Domenico si vede con Panacci e poi manca la rete clamorosamente con Rossetti e Panacci. Celanesi in avanti con Rossetti ma il sulmona porta tre le marcature. Lotta Giansante con Rossetti con palla che finisce a Junior che a porta vuota sigla il 3-1. Un minuto dopo Junior sfiora un altro gol. Al ventunesimo il portiere di movimento D'Andrea è battuto ma è providenziale il salvataggio sulla linea di Paris. Si susseguono altre azioni e sul finire lo Sport Center riapre la partita. Scambio Cotturone-Paris e gol di Panacci. Raddoppio dei marsicani e punteggio sul 3-2 ma le emozioni non finiscono qui perché nel recupero conquista Palla Giansante che vede la porta avversaria sguarnita e conclude dalla propria area per il gol che chiude la partita con il risultato di 4-2 per il sulmona. Nervosismo alla fine e ne fa le spese Paris per proteste per la quarta espulsione del match, terza per i celanesi. Io non mi sono mai lamentato degli arbitri ma io penso che in 30 anni che faccio sto sport credo che tutti i cartellini gialli e espulsioni che ho visto oggi non le ho mai viste. È una cosa vergognosa perché per fare l'arbitro ci vuole personalità, ci vuole carattere, ci vuole modo di parlare, di saper parlare con i giocatori. Oggi ho visto soltanto del protagonismo e questo mi dispiace. Ma questo fa discapito sia della mia squadra che dell'altra perché comunque le ferite le raccolgono pure loro, loro espulsi, ammunizioni, cioè è una cosa vergognosa. Io mi auguro che c'erano i vertici che qualcuno possa veramente mettere mano a questa situazione perché è pesante. Perché io sabato vado a giocare senza giocatori perché non ho più giocatori. È una cosa vergognosa, vergognosa. Guarda, lo dico, io mi chiamo Di Domenico Varte, è una cosa vergognosa. L'arbitro di oggi non ho mai messo colpa a nessuno. La colpa è tutta mia ma quello che ho visto oggi è assurdo. Certo, adesso parliamo dell'aspetto tecnico di questa partita. Come dicevamo, una gran bella partita tra due squadre che meritano ampiamente questa C1. Una gara degna di questo campionato. Sì, questa era la gara che volevamo sia io che penso sul Mona. Una bella gara maschera dove veramente c'è la collettrezza in campo fin quando gli arbitri non si sono messi in testa di fare i protagonisti. Potevamo perdere, potevano perdere loro, potevano pareggiare. C'era tutto, tutte e tre. Sul Mona non ci dimentichiamo che è una squadra costruita per, secondo me loro dicono, per la salvezza ma per vincere. Noi ci siamo battuta alla grande con loro, a testa alta. Ti ripeto, io sapevo che potevo anche perdere e potevo vincere. E le colpe sono le mie. Non metto scuse. Ma quello che ho visto oggi è veramente vergognoso. Io mi auguro che qualcuno metta mano perché se no sto sport. Io ho difficoltà a sabato arrivare a sette giocatori. ho difficoltà. Di Domenico, lei ha degli ottimi ricordi di questa struttura, di questo palazzetto. Ovviamente adesso non siamo nel clima adatto per ricordare quei momenti. Comunque due parole sui suoi trascorsi in a due con il Raiano in questo palazzo sport. Beh, credo che il primo anno abbiamo fatto la storia. Perché insomma, prendere una squadra che era penultima in Cassiva, portarla ai vertici, il secondo anno lottare fino alla fine per terzo, quarto posto, secondo. Penso che sono stati dei momenti bellissimi. Non dimenticherò mai, grazie al Presidente Panella, a tutte le persone che stavano in quel momento insieme. Adesso mi sfugge qualcuno, ma non mi ricordo quei nomi. Ma penso che sono stati anni bellissimi. Mi auguro che sul Mona possa ripetere quegli anni là. Quindi speriamo che tutto il movimento cresca. Stanno facendo tanti sacrifici per farlo crescere, ma dobbiamo essere da entrambi, i tecnici, la federazione, ma soprattutto anche gli altri, che stanno dando la mano. Perché questo è uno sport bello, un giorno devono rovinare per due che vogliono fare per i protagonisti. Mi dispiace dirlo. Purtroppo è così. Emanuele Gianzante, uno dei nuovi arrivati sul Mona Futsal, per parlare di questa partita. Quattro vittorie su quattro gare disputate. È immensa la soddisfazione da parte vostra. Ve l'aspettavate questo inizio? Davvero convincente in C1? Ce l'aspettavamo no, però ci credevamo. Vi ho provato sempre a fare il meglio possibile. Ci è andata bene, diciamo. Ci siamo impegnati molto finora. Parliamo della partita di oggi. Una gran bella partita giocata tra due squadre che meritano ampiamente questo campionato di Serie C1. Sì, è una partita molto tosta, diciamo, maschia. Sono stati parecchi scontri duri, però siamo usciti bene. Il primo tempo così così forse la ripresa è un po' meglio. Soddisfatto per la doppietta, perché ricordiamo Gianzante quest'oggi ha realizzato due gol. Certo, certo, soddisfatto, però più della vittoria che della doppietta. Come dicevamo, sei uno dei nuovi arrivati nel Sulmona Futsal. Come ti trovi qui a Sulmona? No, mi trovo molto bene. I compagni di squadra sono tutti fantastici. Ci divertiamo. Anche perché con alcuni di loro avevi già fatto gruppo nelle stagioni precedenti. Le vogliamo ricordare? Sì, con Gianluca Palladino e Alessio Agostinelli, diciamo, soprattutto. Siamo venuti insieme, anche per questo, diciamo, siamo venuti qua. Se no, ci troviamo molto bene tutti quanti. La società ha dichiarato che l'obiettivo è quello della salvezza, però dopo quattro vittorie, al termine della quarta giornata, Gianzante si vuole sbilanciare oppure rimane con i piedi di piombo? Beh, diciamo... Anche perché se vediamo il curriculum di voi giocatori, siete da Serie C1. Poi, vabbè, lasciamo perdere Junior che da Serie A. Beh, diciamo, prima facciamo i punti per salvarci, poi vediamo di far qualcosa di più se ci riusciamo. Speriamo di sì. Speriamo di sì.